Il giorno 30 ottobre, in piazza Vittorio Veneto, dagli ore 10.30 fino agli ore 13.30, il Circolo Legambiente di Agropoli, Stella Maris, darà inizio al tesseramento per l'anno 2017. Nato a maggio 2016, si è prodigato in attività inerente il proprio scopo sociale, ottenendo i seguenti risultati. Monitoraggio delle spiagge pulite, mediante l'adesione alla campagna Clean Up the Med, sensibilizzazione contro l'inquinamento del mare e delle spiagge, mediante distribuzione presceli dei puntili, dei mozzichini, adesione alla campagna Puliamo il mondo, salvataggio di un gheppo ferito, monitoraggio dell'AMP, area protetta marina, di Santa Maria di Castellabate, delle baie di San Francesco, Trentova e Vallone, grazie ai suoi soci subacquei. Contestualmente avrà inizio la raccolta firme per la petizione europea Salva il Suolo, il cui obiettivo è quello di fermare il consumo del suolo ed arginare il degrado, chiedendo un'efficace legislazione comunitaria per la sua tutela.